...e che io se ero troppo lento, ero troppo lento per... ...ce la visita... ...maestro Falco... ...Falco nel vento... ...una treurega meglio... ...ci siamo... ...davanti, andiamo a tenere la zafferana... ...con una gran pezza di legno da un chilo ciascuno... ...che facciamo, facciamo così? Noi facciamo con la macchina avanti, lui nel mezzo e voi di dietro... ...cosci facciamo... ...cosci con la mia macchina avanti... ...e tu con la tua macchina... ...dicento le quattro frecce... ...e poi, esatto... ...cosci e poi ce la metto là direttamente... ...quand arriviamo in piazza praticamente... ...poi l'ha autorizzata a metterla di là... ...e poi ci diciamo noi... ...va bene... ...siamo noi... ...fanno... ...peremente mi hai chiamato stamattina... ...ha detto che hai bisogno... ...grande una battaglia... ...Giovanni Mendio me l'ha stato... ...no non ci dici no... ...ma ieri sera... ...c'è il... ...il parroco di... ...com'è fai a facciare? ...perchè... ...li rassi che avevo io erano più lunghi... ...beh... ...te nemmeno ci fai... ...agganciare con la mia... ...agganciare con la mia... ...dai Falco! ...vevi che... ...ci è messo proprio da dietro al tubo di scattamento... Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì.